Un altro attentato ragazzi, l'attentato a Parigi, Champs-Élysées, una cosa molto triste. E ne volevo solo dire che io sto bene, quindi che non vi preoccupate per me, lo so ho già ricevuto in circa 400 telefonate, quindi non vi preoccupate, non questo è quello che vi volevo dire. Allora, sto bene, sto vedendo un film, stavano, molto freddo, pari dalla merda. Non, non, apprezzato anche a Parigi si, ho ne sono mai avuto solo suoi, però...